ciao a tutti eccomi sono melissa di onda vitale ecco una riflessione mentre sto passeggiando in una giornata grigia non il solito sole bellissimo che spesso mi accompagna quando faccio video ma una giornata grigia e abbastanza novembrina ma comunque quello che mi viene da pensare e da dire anzi non volevo neanche prendere il cellulare per rovinare questo momento è che non c'è altro posto all'infuori della natura del bosco dove ritrovare il proprio centro dove ritrovare il proprio equilibrio dove stare in pace proprio dove qualsiasi pensiero problema preoccupazione ansia svanisce per un momento se non altro e dove sei riesce ad essere nel momento presente guardando la bellezza della natura anche in un momento in cui non è nel massimo splendore nel senso non c'è quel sole è splendida lo stesso perché comunque io anche che amo il sole ma anche questo clima così un po' grigio un po' introverti di introversione di che facilita l'introspezione è stupendo ti mette in uno stato di contemplazione ecco contemplare poi alla fine vuol dire riuscire a stare nel momento presente quindi appena riuscite finché il tempo regge ma anche quando è brutto se riuscite a ritagliarvi un attimo andate nel bosco è veramente una delle delle soluzioni più facili ed economiche costa solo un piccolo sforzo in termini di forza di volontà ma poi vi ripagherà ampiamente per l'equilibrio che riesce a darvi la calma e la tranquillità e la pace buon pomeriggio alla prossima ciao